Amici di TV Luna, bentornati. Oggi siamo alla filiale di Napoli della Renault Italia per presentarvi due modelli nuovi, esclusivi e certamente invitanti per la nuova stagione commerciale della Renault. Sono la Captur e la Cajar, noi ora entreremo e li presenteremo in pochissimi minuti. Seguiteci. Ed ecco la prima delle due auto. Amiche, amici, benvenuti nel mondo Cajar. Quattro gli allestimenti disponibili per la nuova Renault Cajar. La versione entry-level è denominata Life ed è associata unicamente ai propulsori Energy DCI da 110 CV e Energy Turbo Benzina da 130 CV. Comprende già tutte le dotazioni di sicurezza, oltre al sistema Cruise Control, i cerchi in lega da 16 pollici, freno a mano elettronico e le luci diurne LED. L'allestimento Zen è ordinabile su tutte e tre le motorizzazioni a listino e vanta una dotazione arricchita con l'Easy Access System 2, il climatizzatore automatico B-Zona, i cerchi in lega Aquila da 17 pollici, i vetri oscurati e il sensore pioggia e crepuscolare. Ancora più completo l'allestimento Intense, che è dotato di serie dei rivestimenti in ecopelle e tessuto, inserti satinati, il sistema R-Link 2 e numerosi dispositivi elettronici per la sicurezza attiva, oltre ai sensori di parcheggio anteriore e posteriore. Al top della gamma troviamo la versione Bose, che viene impreziosita dal Bose Sound System con 7 altoparlanti, volante in pelle nappa, rivestimenti in tessuto e ecopelle, gruppi ottici full LED, cerchi in lega Egeus diamantati da 19 pollici e telecamera posteriore. Il prezzo parte da 20.250 euro. E ora passiamo alla Captur, un altro esclusivo modello targato Renault per la nuova stagione commerciale 2015. Captur è disponibile con motorizzazione da 900 e 1200 cm3 turbo benzina, motori con bassissimi consumi ed emissioni inquinanti, con elevate prestazioni e cambio automatico. Sul campo del diesel, il famosissimo 1500 DCI Renault con due livelli di potenza, 90 e 110 CV, record di categoria in consumi ed emissioni di CO2. Tutti i motori sono Euro 6. La sicurezza di Captur è tutta di serie, spaziando dall'antiribaltamento ESP, il massimo della sicurezza, nei crash test, all'antislittamento delle ruote, agli airbag frontali e laterali. In tema di comfort di guida, cruise control, Bluetooth e MP3 di serie su tutti i modelli. E a seconda degli allestimenti, il navigatore di ultima generazione R-Link, unito al climatizzatore automatico e al sistema mani libere. Sul fronte della personalizzazione, Captur vi permette di spaziare tra numerose tinte monotono e bitono, potendo inoltre incrociare le stesse con numerosi accostamenti di colore, sia per gli interni che per gli esterni. Allo stesso modo, per i cerchi in lega è possibile richiedere una personalizzazione, scegliendo le misure desiderate. Il prezzo parte da 14.450 euro. Ma queste non sono che alcune delle caratteristiche della Captur e della Cajar. Vi invitiamo a venirle a scoprire di persona, nella sede di Agnano e in quella di Via Gianturco, a Napoli. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!